Per una psicologia del creato, libro che verrà presentato domani presso la Torre di Cerrano, la psicologia con la natura, in che senso? Nel senso che noi dobbiamo assolutamente recuperare un rapporto organico, concreto e reale con la natura, non solo nel dire ma anche nel fare. Quindi il libro si occupa di una nuova direttrice in campo nazionale che io porto avanti, che è quello di cominciare a spostare l'asse dell'interesse tra persona e persona, ma tra persona e ambiente naturale, che significa cambiare il paradigma dei rapporti con la natura, cominciare a preoccuparsi di questa nuova relazione, che ha una dimensione che è cognitiva, che è relazionale, che è individuale, ma che è anche collettiva e di comunità. Quindi devo dire che questo appuntamento alla Torre di Cerrano, grazie anche al sindaco che l'ha avuto fortemente, è un appuntamento non solo di natura culturale, ma che comincia a mettere insieme una serie di elementi che sono gli atteggiamenti, i comportamenti, gli stili di vita, per cambiare tutto quello che il genere umano deve fare, non solo per entrare in relazione, ma per tutelare e salvaguardare la natura. Ed evitare catastrofi che avvengono sempre più frequenti negli ultimi anni. Beh sì, una delle cose paradossali è quando si sentono i telegiornali ultimamente, si parla di inquinamento, si parla di cambiamenti climatici, e si attribuiscono sempre ai disastri naturali e ambientali. Il tema è del disastro che è generato dall'essere umano che non sa più che cosa vuole dallo sfruttamento della natura, la natura cede e molto probabilmente si riprende anche il suo quando fa le inondazioni, quando fa una serie di elementi che per noi sono incomprensibili, ma per la natura invece riprende il suo corso che è stato, come dire, impossibilitato negli ultimi cento anni, molto probabilmente anche di più. Quindi il tema qual è? È la salvaguardia, la tutela, ma è entrare in una nuova relazione che è una relazione di rispetto, come se fosse un essere umano e quindi passare dal tema dell'antropocentrismo, quindi dell'uomo al centro di tutto, all'ecocentrismo dove la natura in relazione con l'uomo riprende il suo posto. Prima di pensare alla transizione ecologica bisogna pensare ad una transizione psicologica, perché se non c'è un impossessarsi di questi temi, farlo proprio, viverlo, farlo vivere in famiglia, nelle comunità, nelle istituzioni, e soprattutto a partire dalla scuola molto probabilmente questi elementi non si affermeranno mai come elemento che saranno non solo di tutela ma di qualità della vita.